eccomi qua intanto che arrivate come al solito scusate provvedo a mettere anche su twitter ok buongiorno la sera allora link per dire ora e si messo messo perché sto ingrassando allora ci siamo messo su twitter quindi fra breve dovrebbe credo aumentare il numero di ospiti buonasera 100 guarda qua che che bei cognomi che sto vedendo arrivare si la drenga bulas è vero sta cominciando arrivare un po' di brutto tempo dai al massimo se mi prende un fulmine ci togliamo il problema no mandato da draghi ok sopra i 500 quindi direi che direi che ci siamo ciao serena allora innanzitutto vabbè buon 25 aprile a tutti qui il lago di como nello specifico ha ovviamente dei ricordi diretti di quei giorni lo sapete cioè mussolini fu catturato nella parte nord del lago quindi andando in questa direzione il 27 credo aprile dalle nello specifico comunque la resistenza e il lago di como era abbastanza importante come come luogo per per quegli anni di resistenza perché era un la vicinanza alla svizzera ovviamente faceva molto quelli che normalmente erano i contrabbandieri quindi contrabbandieri che in una maniera o nell'altra facevano normalmente lo spallonaggio qua sui sulle strade sulle montagne poi mettevano in salvo ebrei perseguitati così questo tipo per esempio la stessa liliana segre fu tradita da lo spallone che lo consegnò poi che la consegnò poi ai soldati ai soldati del dei tedeschi in una maniera o nell'altra giusto per capire come messo qui no perché scendi giù e vai al lago sali adesso aspetta vedo se riesco a farvelo vedere vediamo se riesco a non farmi male aspetta qui se giro la telecamera eccolo qua dietro ecco vedete dietro c'è la montagna dietro quella montagna lì c'è la svizzera c'è il confine è proprio è proprio poco poco dietro quella la montagna dietro per cui eccolo qua per cui tutti tutte queste queste montagne erano piene di sentieri che portavano di là in svizzera dove si faceva appunto contrabbando e così via e a quei tempi poi ovviamente si faceva contrabbando di persone ecco mettiamola così comunque a parte questo questo movimento a parte di liberazione che di questo momento purtroppo di liberazione ce n'è molto poca qua qua da noi mi ricordo tanto per dirne uno un altro 25 aprile che era un giorno di campagna elettorale per le europee in cui il basta euro tour per chi se lo ricorda quando per la prima volta avevamo cominciato a spiegare le questioni della moneta in giro in giro per l'italia avevamo deciso di fare il la tappa del 25 aprile del basta euro tour a reggio emilia non vi dico autonomi partigiani centri sociali e cose di questo tipo no proprio fuori dal posto dove eravamo risse cariche della polizia no e cose di questo tipo e da lì avevo cominciato a capire che quelli che si dicevano antifascisti in realtà erano loro i primi a non capire nulla di cosa fosse la democrazia perché in un posto come l'emilia romagna prendere impedire di parlare di fare solo divulgazione attenzione perché stava parlando di conferenze dove si parlava di euro si parlava di economia no erano propedeutiche alle elezioni europee ma non erano esattamente ancora in vista e non si poteva parlare no non si poteva parlare non si poteva dire niente perché sennò altrimenti autonomi centri sociali e così di questo tipo per la serie noi siamo i sinceri democratici e da lì poi si era andati fino al crescendo della campagna elettorale quella in toscana di cui di cui ci ricordiamo come si chiama il paese quello dove abito io karate urio si chiama il comunque ecco giusto per non reinventare la ruota vi ricordo che i video del basta euro tour sono tutti lì cioè non è che sono stati dimenticati o cose di questo tipo basta andare a cercare basta euro tour seguendo l'unico forse ecco l'unico di cui non c'è il ciao federica forse l'unico video del basta euro tour di cui non c'è traccia è stato proprio il primo a firenze se qualcuno riesce a trovarlo o ce l'ha nascosto da qualche parte mi fa mi fa una cortesia il quel famoso primo la prima puntata la prima tappa che venne fatta a firenze del basta euro tour dove pensavamo di essere in cinque invece ci troviamo in cinquecento e eravamo talmente entusiasti che poi si fece questa specie di manifestazione non organizzata verso palazzo vecchio dove c'era renzi secondo me ecco mi piacerebbe vederlo altrimenti da quelli successivi ci sono sicuramente tutti il ducio sei un reduce di quel di quella basta euro a firenze e si la tua brienno la tua brienno è di là in una maniera o nell'altra comunque se trovate i video ce ne sono tre in particolar modo che vi suggerisco basta euro tour milano basta cercarlo e guardarlo secondo me dove proprio spiego le questioni della moneta la sopravvalutazione la sottovalutazione basta euro tour torino dove vado a vedere che l'attacco fatto all'italia nel 92 era fatto esattamente con gli stessi metodi con cui adesso argomentano contro la sovranità monetaria e basta euro tour vicenza dove si spiega parte delle ragioni della storia economica dell'italiano un po un po di tempo ecco quello quello a udine non era non era male poi c'era quello di buia belli anche quelli però nello specifico quel lavoro e quel lavoro lì quel quel quella fatica nel mettere giù le basi per per la conoscenza successiva diciamo che secondo me i tre che io considererei più importanti se uno non ha vissuto quel periodo se uno si avvicina adesso a determinate tesi e cose di questo tipo perché questo pubblico più ampio che adesso noi abbiamo non deve far dimenticare che ci sono insomma delle costruzioni precedenti io vi suggerirei di andare a vedere appunto i basta euro tour in sequenza di milano torino e vicenza e vicenza no era treviso treviso scusate milano torino e treviso quindi ve lo suggerisco poi poi guardate dall'altra parte invece dall'altra parte invece non sto a commentarvi più di tanto le robe di giornata che vabbè di maio poveretto cioè adesso io non lo so più di dagli addosso perché ha scritto sul mess ci si può pensare sul mess vediamo bisogna essere pragmatici ricordiamo che il nuovo direttore gli do una chance cioè ricordiamo che il nuovo direttore della stampa e giannini è massimo giannini nuovo direttore della stampa che quindi esordisce con un titolo che viene smentito subito no dall'interessato vediamo ecco non lo so io ho imparato di fidare i giornali quindi mi sembrerebbe scorretto anche se torna tutto però mi sembrerebbe scorretto prendere e dare fiducia a un titolo di giornale in merito pensare che sia vero perché se no altrimenti dovrebbero essere vere anche tutte quelle boiate lì giorgetti borghi mini bot tutte le cose che ho detto anch'io che non era vero per cui per cui vabbè ciao amare lo so che ripresente a milano comunque quindi evitiamo di commentare le cose di giornata suggerisco anche invece se uno vuole andare a guardarsi alcune cose che ci sono alcuni docenti di economia spagnoli che si sono resi conto che c'è il problema del mess no e dice e ho risposto a uno pochi secondi fa perché è molto interessante sì giannini quello delle coperture proprio lui questi professori economia dicono ma io non capisco com'è che la bce non sta tenendo bassi in questo momento non sta intervenendo come dovrebbe sui mercati dei titoli di stato e un altro professore sempre spagnolo e risponde è certo non lo sta facendo perché l'italia deve cedere deve prendere il mess capito quindi lo sanno da tutte le parti come come gira il mondo questo l'aveva detto anche il buon marattina anche se non si sa perché prende cappello quando lo faccio notare ma siamo nel simpatico ci stiamo avvicinando al simpatico mondo del ricatto ed è quello che quelli che noi vogliamo pensare di avere in buona fede del 5 stelle che dicono no beh ma effettivamente noi siamo contrissimo fidatevi noi siamo assolutamente contro il mess no però l'abbiamo messo lì perché non si poteva evitare e non si poteva evitare si poteva evitare sì perché tu stai facendo ti stai mettendo in posizione di pericolo perché da una parte metti il mess sul tavolo e dall'altra parte sai che possono ricattarti in qualsiasi momento perché basta che la banca centrale cominci a non comprare i tuoi titoli come dovrebbe lo spread sale istantaneamente uno dice ho bisogno ho bisogno ho bisogno della droga quindi state un po' attenti invece detto questo inutile parlare di oggi oggi vi faccio un piccolo ripassino se dato che me l'avete chiesto sui diversi modi e titoli di debito no perché uno parla si sente parlare di tutto il bot orgoglio italiano il bot patriottico i btp cioè allora e le emissioni di titoli di stato dello stato italiano sono per chi le compra risparmio ok quindi c'è un lieve conflitto di interesse fra l'emittente e l'acquirente quindi quando uno dice ah ma è una cosa che non conviene allo stato fare una roba del genere dall'altra parte ti sta implicitamente dicendo che conviene a chi la compra ok quindi se io dico che devo fare dei titoli titoli di stato particolarmente favorevoli per i sottoscrittori sto dicendo che sono meno favorevoli per lo stato che li emette e più favorevoli per i sottoscrittori questa è una cosa che ovviamente anche come discussioni interne devo sempre tener far tenere presente no perché sarebbe molto semplice dire va bene io faccio dei titoli con delle condizioni ottime per per l'acquirente dall'altra parte va saputo che sono delle condizioni pessime per lo stato no ok come possono essere possono essere le due famiglie più le tre famiglie più grandi di titoli sono a tasso fisso a tasso variabile e indicizzati all'inflazione il tasso variabile è tipicamente il cosiddetto cct per dire certificato di credito del tesoro in buona sostanza cosa succede prende i tassi dell'anno e te li applica se i tassi salgono sale anche la cedola se i tassi scendono scende la cedola sono andati molto poco di moda ultimamente perché essendo che i tassi sono a zero la gente non trova particolarmente attraenti questi questi titoli una volta invece erano molto più molto molto più interessanti diciamo anni ottanta cose di questo tipo il tipico investimento era fatto proprio col cct il cct era quello diciamo per chi non vuoi rischiare perché dato che ogni anno ti viene applicato il tasso di interesse vigente quell'anno lì sul mercato in realtà il tuo capitale non cioè non guadagni non perdi cioè prendi esattamente gli interessi di mercato quindi quello secondo me era proprio lo strumento risk free a me piaceva molto come titolo il cct perché se tu hai un titolo di stato e intendi utilizzarlo esattamente per come dovrebbe essere pensato vale a dire come un impegno con un impiego di capitale privo di rischio avere il tasso variabile quindi che tu non devi preoccuparti dei cambiamenti di mercato simili perché tanto in ogni caso il tuo capitale viene in ogni caso tutelato qualsiasi cosa succeda era secondo me molto positivo infatti io quando lavoravo in borsa dato che non potevo speculare comprare titoli e così via se non con delle limitazioni pazzesche che non me lo in cct anni 90 e così via dopodiché invece c'è il tasso fisso allora il tasso fisso in teoria uno può pensare che sia una roba più sicura no perché ti dà un tasso che ne so 2 per cento 3 per cento cose di questo tipo per tutta la distanza per tutta la durata del dell'investimento diciamo che il btp è tipicamente decennale no allora quindi significa che tu per dieci anni dai soldi per dieci anni riceverai ogni anno il 3 per cento 2 per cento di interesse sul tuo capitale e non varia mai allora esattamente il contrario del cct il cct varia l'interesse e il capitale rimane eccolo il prezzo rimane sempre quello il btp invece è evidente che rimanendo fisso il tasso di interesse varia il prezzo del capitale sul mercato perché perché supponiamo che io ho comprato un btp al 2 per cento di tasso di interesse supponiamo che parta l'inflazione domani possiamo escluderlo no non possiamo escluderlo magari può anche essere allora a quel punto per cercare di contrastare l'inflazione salgono i tassi di interesse diciamo che vanno al 5 per cento e beh a quel punto cosa succede succede che i tassi di mercato sono il 5 per cento il tuo titolo rende il 2 per cento e ovviamente la gente non lo vuole quindi sul mercato varrà di meno del nominale varrà di meno di 100 diciamo che potrebbe andare bo a 80 70 qualcosa del genere quindi praticamente cosa succede succede che in realtà quello che per te sembrava un investimento sicuro perché ti dava l'interesse fisso fino a scadenza è in realtà si rivela un investimento speculativo perché se ti va bene vale a dire se i tassi scendono il tuo prezzo sale perché supponi che tu hai preso un btp al 4 per cento i tassi vanno a 0 al 1 come adesso caspita la gente si strapperà le mani per avere te lo strapperà di mano il titolo al 4 per cento e da 100 andrà a 110 115 no e così via come come prezzo cosa succede però che questo questo metodo rischioso quindi il btp è un investimento rischioso è evidente che è rischioso anche per lo stato io ho scritto un pezzo che potete trovare sul sito di asimmetrie che in buona sostanza sono le scelte speculative sulla gestione del debito pubblico e dove forse ho fatto notare che in passato quando i tassi interesse da dall'8 9 per cento cominciarono a scendere arrivò al 4 chi fece la scelta una volta arrivati vicino al 4 per cento di dire beh sono al 4 per cento a questo punto non non scenderanno più e hanno deciso di emettere una marea di btp con tasso di interesse al 4 per cento a scadenze lunghissime in realtà hanno fatto un errore gravissimo perché poi chi le ha comprati dei cittadini ha fatto un sacco di soldi ha fatto un ottimo investimento perché ha preso magari ha dei titoli che per dieci anni vent'anni ti danno il 4 per cento quando i tassi sono andati a zero e voi capite che cominciano a essere soldini è se uno ci mette 100 mila euro no e si porta a casa 4 mila euro di interesse di interesse ogni anno insomma non è pochissimo e a quel punto che cosa succede succede però che il nostro tesoro in questo momento non stiamo pagando una marea di interessi sul debito pubblico il famoso fardello di questo tipo perché non perché sia tanto perché sì tipo tipo la cannata e quella gente lì non perché sia tanto il debito pubblico ma perché è stato gestito in modo discutibile cioè è stato gestito in modo tale da puntare sul rialzo dei tassi gli stessi derivati quei famosi derivati che voi ogni tanto sentite su cui ci perdiamo su un sacco di soldi perché erano stati fatti erano stati fatti appunto pensando in un rialzo dei tassi e quindi questi miliardi che noi ogni anno perdiamo per questi maledetti derivati certo sarebbero stati dei miliardi guadagnati se i tassi fossero saliti ora a me verrebbe da pensare che uno stato chi gestisce uno stato e sa che sei dentro in un mondo deflazionistico come quello dell'euro non avrebbe dovuto fare questo errore molto grave poi per carità magari l'avrei fatto anch'io invece che ne so se fossi stato a quel punto lì avrei sbagliato dico soltanto che chi ha sbagliato per dieci anni quindici anni a capire come funzionava il mercato in qualsiasi banca di investimento nel lavoro dove facevo io non sarebbe durato dieci mesi invece per dieci anni noi siamo andati avanti e quelli del tesoro sono ancora lì a pensare di essere dei fighissimi no perché che bello abbiamo gestito tanto tanto titolo di stato e così via sì ma l'hai gestito malissimo perché 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 hai fatto un trade cioè hai fatto una posizione speculativa molto 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 sbagliata avrai avuto le tue ragioni però vorrei anche che si riflettesse che queste decisioni che sono quelle che impattano sullo stato in minuto in misura infinitamente maggiore rispetto a tutte le robe che su cui si perde una marea di tempo cioè tipo agli stipendi il taglio l'auto blu no tutte queste cazzate cioè mentre uno va dietro a inseguire i 100 euro dell'auto blu no così questo tipo perché anche tutte queste cose di solito allora guarda io ti taglio l'auto blu e dall'altra parte prendi il taxi spendi di più di taxi che auto blu e quindi figurati no c'è stessa roba del mess cioè dov'è la differenza fra quello che ti costa il mess e quello che ti costa i titoli di stato si parla sempre di differenze la grande parte invece c'è l'enorme discorso di prendere 2000 miliardi di debito pubblico di sbagliare la gestione di 2000 miliardi di debito pubblico mettendolo tutto a tasso fisso quando i tassi invece sono andati a scendere che ti va a costare magari 40 50 miliardi all'anno di queste robe non se ne parla mai perché ve lo dico io perché perché queste cose queste scelte sono cose da deep state queste scelte sono cose da gente che lavora nei ministeri queste scelte sono gente sono scelte fatte da gente che lì al mef il ministro protempore arriva spesso volentieri non fa neanche a tempo a capire dove dove sono le uscite preso dentro in cose immediate tipo a bisogna farla finanziaria bisogna fare il decreto bisogna fare studiare questo studiare quest'altro e queste cose importanti volano via anche perché oltretutto dovresti metterci uno esperto di mercati ce ne sono pochi perché di solito quegli esperti di mercati lavorano nei mercati ricordate quanto quanto guadagnavo per cui questi sono forse ragionare sui tipi di debito sono delle cose molto più importanti per le casse di uno stato rispetto a ragionamenti strani e quello che adesso viene fatto quando con massima leggerezza si dice beh ma adesso noi ci finanziamo col messo così questo tipo piuttosto che perché io premo per il discorso della monetizzazione soprattutto perché altrimenti tutte le altre forme comportano delle scommesse per il futuro su cui noi poi dopo siamo bloccati per 10 20 anni perché a quel punto poi lì è finito quindi cerchiamo di capire cosa farei io invece se dovesse emettere dei titoli cosiddetti orgoglio italiano così questo tipo bene io propenderei per una questione per per emettere dei titoli che siano neutrali cioè io non voglio che ci guadagni lo stato e non voglio che ci guadagni più di tanto il cittadino ai danni dello stato dovrebbe essere una cosa che fa andare contenti tutte e due la maniera secondo me migliore sono i titoli indicizzati all'inflazione quindi in buona sostanza ho un titolo che da un piccolo interesse reale non so diciamo lo 0 5 per cento te o qualcosa del genere o l'uno per cento non lo so ogni ogni anno e in più il nominale si rivaluta dello stesso tasso di inflazione il risultato che cos'è è che io ho messo i soldi nel i miei risparmi nel debito pubblico qualsiasi cosa succeda anche posso anche uscire dall'euro dove c'è l'inflazione le carriole o cose di questo tipo e non cambia niente perché in ogni caso se alla fine io esco dall'euro svaluto e così questo tipo e il l'inflazione va al 5 per cento al 7 per cento cose di questo tipo ecco che il mio nominale si rivaluta del 5 7 per cento lo stato ci perde no perché è evidente che quell'inflazione non fa altro che compensare la perdita di valore del del denaro per cui io sono stato a me è stato hai prestato 10.000 euro benissimo questi 10.000 euro hanno perso il 2 per cento di valore perché c'è 2 per cento di inflazione a me converrebbe ovviamente a me stato ma te lo riconosco quindi facciamo pari e patta l'unica cosa che vera che rimane quel piccolo interesse reale che c'è quindi sì ci sono i cosiddetti btp italia o così questo tipo ce ne sono ce ne sono tanti insomma i cosiddetti btp italia o in generale quelli indicizzati all'inflazione secondo me io propenderei per quello proprio per evitare di avere poi delle scelte strane no che poi in futuro possono rivelarsi molto molto sbagliate per cui insomma questo è più o meno secondo me la mia idea rimangono giusto perché così finisco la spiegazione cina sui titoli di stato rimangono i bot allora i bot sono titoli a tasso fisso ma sono a breve a breve scadenza non hanno cedola sono venduti a sconto in buona sostanza scusate giusto per farvi capire supponiamo che c'è un bot al tasso dell'uno per cento come funziona funziona che a scadenza dopo un anno ti ridanno 100 tu quando li compri gli dai 99 quindi tu dai 99 subito per te lo stato li tiene per un anno e poi te li restituisce a 100 quindi sono sì titoli a tasso fisso ma essendo che sono a scadenza breve non può mai succedere che capiti come il btp che i tassi salgono tantissimo e tu sei bloccato con una rendita a un tasso differente rispetto a quello di mercato per questo motivo anche i bot sono adatti normalmente se uno immagina una salita di tassi interesse questa è una domanda che facevo quasi sempre in università dopo aver fatto le spiegazioni dei titoli gli dicevo che titoli compreresti se avessi delle aspettative di salita di inflazione beh allora se avessi delle aspettative di salita di inflazione comprerei i bot perché appunto sono a breve scadenza e quindi mi consentirebbero di riprendermi in mano il mio capitale ogni anno e di rinvestirlo quindi a tassi man mano crescenti perché l'inflazione comporta dei tassi che vanno ad alzarsi mi comprerei dei cct perché ovviamente hanno una cedola che si adatta con nell'anno mi comprerei dei titoli indicizzati all'inflazione quindi diciamo i btp italia non mi comprerei ovviamente i btp perché in caso di salita di tassi di interesse il mio tasso di interesse piccolo che prendo adesso quindi all'1,5% 2% e così questo tipo mi sarebbe per me un disastro perché in presenza di tassi di interesse di inflazione molto più alto il mio tasso di interesse più piccolo comporterebbe che se volessi rivendere il mio titolo porterei a casa ovviamente una cifra molto molto più bassa per cui ecco questo qui è grosso modo l'impostazione per capire cosa sono i diversi titoli di debito poi ce ne possono fare molto più complicati no e così via ma quando uno ha capito più o meno la differenza fra tasso fisso e bot sono ormai a tassi negativi perché esistono questi tassi negativi io non avrei mai pensato che ci potevano essere ci sarebbero potuti essere tassi negativi sui titoli di stato e beh questo purtroppo sono gli effetti o per fortuna sono gli effetti del quantitative easing non vuoi stampare moneta direttamente allora riesci tendi ad arrivarci con questo sistema tale per cui la banca centrale compra tanti di quei titoli che porta in negativo tanti tassi di interesse quindi la gente per non tenerli sul conto corrente perché sul conto corrente ti prendi il rischio banca ricordate soldi sul conto corrente uguale prestati alla banca e in certi casi possono essere possono essere pericolosi ecco allora cosa devi fare hai lì un milione due milioni e così questo tipo ovviamente non sto parlando di non sto parlando di come si chiama di di privati no o similari per la maggior parte dei casi stiamo parlando appunto di grandi disponibilità quindi banche finanziarie o così questo tipo non voglio lasciarlo sul sul conto corrente vado a metterli in un bot o qualcosa di simile risultato li parcheggio lì è come se pagassi un piccolo interesse per per il per il parcheggio il tasso negativo significa esattamente quello che uno pensa cioè vale a dire che per esempio i bot invece di pagare 99 per farsi restituire 100 pago 100,01 e poi mi restituiscono 100 io per li parcheggio in parcheggio il denaro in un posto e mi costa un po' riuscire a stoccare il i miei i soldi da da una parte quindi c'è il tasso negativo è un po' come un po' l'idea della cassetta di sicurezza cioè la cassetta di sicurezza io pago qualcosa per l'affitto della cassetta di sicurezza e deposito dentro delle cose di valore questo è più o meno il il simpatico mondo mondo attuale la cosa migliore sarebbe quella appunto di prendere e monetizzare il il debito molto simpaticamente sarebbe riportare i tassi a zero lo stato emette dei titoli glieli compra a zero interessi glieli compra a zero interessi la banca centrale gli da in cambio la moneta sarebbe la cosa più normale ma a questo allegro difetto questo difetto è che così facendo non si riesce a far scattare il ricatto che è a quanto pare parte essenziale dell'essere nell'unione europea l'unione europea senza ricatto non funziona valutiamo serenamente se ci conviene o se è una cosa positiva stare in un sistema che si basa sul ricatto grazie pensando alla futura liberazione